Ciao ragazze, ciao ragazzi, questa è la mia seconda ed ultima proposta per quanto riguarda queste feste, ovvero la mia seconda proposta per il Capodanno. Questa volta mi sono ispirata al color bronzo, con vari prodotti che vedrete appunto nel tutorial, se lo seguirete. Ovviamente in collaborazione con le mie splendide amiche di Whatsapp, che giù vi metto come al solito i loro link dei loro canali. Un bacio ragazze, e che dirvi, io spero che il mio tutorial vi piaccia, ovviamente andate a guardare anche loro perché sono delle ragazze splendide e bravissime, stupende, stupendissime. Io ne approfitto per farvi i miei auguri, oggi è il 31 quindi vi faccio i miei migliori auguri per un Capodanno alla grande, per un inizio ancora più grande, più bello e vi auguro ogni bene. In questo anno ho conosciuto tantissime persone nella mia vita, sia positive che negative, ma fa parte della vita. Però sono veramente contenta per le persone positive che ho conosciuto, per chi mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando ogni giorno tutto il loro calore, tutto il loro affetto, tutto il loro amore, in ogni cosa che fanno, che mi dicono e soprattutto quando si ha la possibilità di incontrarsi come già mi è capitata con una di voi. Io volevo appunto approfittare per quest'ultimo video per farvi ancora i miei auguri. Io spero che il video vi piaccia, mi raccomando andate a guardare quelle delle mie amiche, quello delle mie amiche. Vi metto giù anche tutti gli altri miei social, qualora voi vogliate seguirmi anche lì. Nulla, noi ci vediamo all'anno nuovo e vi mando un caloroso bacio, un abbraccio forte forte e che dirvi, al prossimo video. Ciao, buon anno! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!